Il Montevarchi è ufficialmente tra le migliori squadre di eccellenza d'Italia per rendimento. Spulciando tutti i vari gironi in giro per lo stivale, a questo punto c'è infatti una sola squadra che ha fatto meglio, ed è il Trento nel massimo palcoscenico regionale del Trentino. 13 vittorie su 13 uscite. Per il resto nessun altro ha tenuto il passo dell'Aquila, considerando anche che i Rosso Blu, pur eliminati dalla Coppa dalla Baldaccio Bruni Anghiari, sono di fatto imbattuti anche in quella competizione. Così ecco che l'Union San Giorgio di Sedico in Veneto ha medesimo score del Montevarchi in campionato, ma ha subito due stop in Coppa, stesso dicasi per il Capo Rizzuto in Calabria, anch'esso fermato nelle sfide d'eliminazione diretta. Domenica in caso di vittoria contro la Sinalunghese arriverebbe il titolo di campione d'inverno, nella peggiore dell'ipotesi in coabitazione col Grassina, contro il gare di anticipo ed anche questo negli ultimi anni in record. Neppure la marcia trionfale della Pianese giunse 270 minuti prima del giro di Boa in eccellenza, resistette la Pistoiese e il Fiesole Caldine si giocò punto a punto con la Forte e Juventus il titolo nel 2011-2012. Sul podio dunque delle migliori squadre d'Italia per il Montevarchi si avvicina un ottimo Natale, anche oltre le aspettative.